Stronzo, tu hai la tua mania di sparare, doveva essere una cosa semplice, tu non mi conosci, non ci conosci, non sai chi siamo. Ho portato i soldi, dovete darmi quello che mi spetta. Sta tranquilla, avrai quello che ti spetta. E' stata strangolata con un fil di ferro e in più violentata, sai come la penso, ma in casi come questo non vorrei che fossimo noi a prenderlo quel bastardo, voglio dire, chiunque sia stato merita una morte peggiore di questa. Dici, ho una figlia della sua stessa età. E poi c'è chi sottiene ancora che non è vero che Torino è diventata la capitale della criminalità italiana. No! Sono loro, Daniele. Purtroppo, qualcuno ci ha preceduti. Senti, brutta stronza, t'ammazzo se non mi dici come sono andate le cose. Ci hanno obbligato ad avere dei contanti con altre persone, che a loro volta sono state fotografate di nascosto e poi... Ma ora dovrai dirci tutto il resto. No, indirizzi. Tutto quello che sai. Fermo! Ti dico che si sono scatenati. E se non li fermiamo si scanneranno tutti. Meno sette, meno sei, meno cinque, meno quattro, meno tre, meno due, meno uno, ora! Deve continuare così per il bene di tutti. E sono sicuro che tu non direi niente, perché conviene anche a te che ci sia qualcuno che faccia un bel ripulisti. Se non vuoi che ti capiti qualcosa, comportati bene. Ci volai neanche tu. Hai visto che mi hai dato l'occasione? Qui centrale operativa, rapina big market. Beta sette, Savona due, convergere verso quadrante otto. Porca puttana la madama! Grazie a tutti!